Welcome to MiroTV, ragazzi! Oh, sono in compagnia di me! Per ogni giorno, let's come not to the universe! Ma che lottato c'ha offerto questa puntata in Italia! Che roba! Spaventoso! Il lottato mi è piaciuto davvero tanto, specialmente in tre contese. Però, dobbiamo partire come al solito dall'inizio, se no ci perdiamo sempre qualcosina. E ce la perdiamo uguale perché c'è troppa roba a Danamit, però va bene! Questo pure è vero! Partiamo però da Adam Page e Ricky Starks. Match importante più che altro per il Power Ranking. Il Power Ranking! Adam Page si conferma di essere il leader assoluto di questo Power Ranking. Si avvicina sempre di più a un altro shot contro Kenny Omega. Perché ricordiamoci che il campione massimo è il Kenny Omega, almeno della All Elite. A meno che questa domenica non cambi tutto quanto. Perché vi ricordo ci sarà Rich Swann contro Kenny Omega. Che qualora Rich Swann riuscisse a vincere, oltre che rimanere il campione di Impact, diventerebbe addirittura campione della All Elite. Si sta a favore alle pippe mentali per questa cosa. Vabbè, io devo dirlo. Dovere di cronaca, dovere di cronaca. Ma qualcuno ce li crede? Non ci crede neanche Rich Swann? Un cosiro, l'appo, uno, due, tre, clamoroso. Se sentite un urlo, sono io. Infatti, rimaniamo su Adam Page e Ricky Starks, che hanno tirato fuori anche una buonissima contesa. Mi sono piaciuti davvero tanto. Non li metto nei top tre match della serata, e questo è tanto dire. Perché se vi ho detto che vi è piaciuto questa contesa, mamma mia. No, però altre contese hanno offerto infinitamente di più, nonostante questa è stata buonissima, dove si è confermato un ottimo Adam Page. Che però ha faticato parecchio, perché Ricky Starks non è lì per sbaglio in quella posizione di power ranking. No, ma a prescindere, Adam Page è uno che fa sempre match lunghi. Cioè, match corti di Adam Page non esistono. Pure questo è vero. Tra l'altro, però, lui ha provato a connettere i backshot area, e Ricky Starks è uno di quei pochi, che è riuscito davvero a fregarlo per bene, perché poi ha connesso quella spia. Uno, due, kick out del mezzo, però, eh. Però, oh, Ricky Starks... Belli spot, Adam Page chiude di sottomissione? Sì, anche perché... Perché il match è stato abbastanza chiaro a livello del storytelling. A un certo punto Ricky Starks ha iniziato a sentire un dolore, e Page, da bravissimo lottatore, anche intelligente, è andato a connettere quella mossa di sottomissione, che era, se non sbaglio, un bulldochok, poi però gli ha afferrato anche la gamba indolenzita, lì, Ricky Starks non ci ha visto più, è stato costretto, cioè, strano... Tra l'altro, Ricky Starks era rosso, era proprio rosso in pace, una roba pazzesca, comunque bello, finale tra l'altro inaspettato e non già visto, io sono contentissima di tutto. Perché noi che seguiamo attentamente il cammino del cowboy, non l'abbiamo mai visto arrivare a vincere una contesa in questo modo, sfruttando l'intelligenza, ma anche il malessere del suo avversario che si era fatto male, quindi il nostro storytelling è stato anche molto buono, secondo me, soprattutto quella pasina lì, bello, però, oh, Ricky Starks era riuscito a resistere, gli aveva evitato l'impatto con la Baccia Lariat, io devo dirvi la verità, sto match me lo sono proprio goduto, complimenti a tutti e due. Però, ecco, nel post-match succede qualcosa di strano, particolare, non imprevedibile, però strano perché, Peo, perché Adam Page viene attaccato dal figlio di Taz, poi giungono anche giustamente Brian Cage, Ricky Starks, se l'abbiano tutti, io ho il povero Adam. Ebbè, è l'isola famiglia e ancora una volta che Adam Page viene affiancato dal Dark Order, ok. Tu mi dici strano? Io ti dico che, conoscendo la L'Elite, è probabile, perché io ve l'ho sempre detto che mi sembra troppo presto per fare di nuovo Omega contro Adam Page, e se vuoi ancora una volta temporeggiare, sfrutta il Team Taz, sfrutta il Dark Order, ti fai un bel po' di match e non ci arrivi a Double Nothing. No, c'ho qualche perplessità, perplessità dove l'ho fatto che comunque il Dark Order era ancora rivalità con la Stable e i Matardi. Ecco, quello è un punto strano, perché effettivamente quella rivalità è infinita, perché hanno fatto davvero un botte di match, ma non è finita. Ma è difficile trovare un punto di conclusione, perché effettivamente Matardi e Adam Page sono già affrontati. E lì hanno concluso con la storia del Big Money Match, eccetera, eccetera. Però stanno continuando Dark Order e tutta la famiglia di Matardi a fa match, cioè ogni Dark, ogni Evolution ci stanno loro contro. Quello che mi pulsa un po'. E sono un po' questi Dark Order che vanno dove a Peggio, cioè se mettono in rivalità con chiunque per proteggere Adam Page, anche quella è una storia. Però secondo me, che io continuo a dire che per me è troppo presto per rivedere Omega contro Adam Page, ti dico che approvo se allunghi il brodo e mi fai fare altri match belli. Ma pure il Team Taz è fischiare un'altra roba. È un po' tutto un casino, è un po' un brodone. Ma è la O'Lelite questa? Bisogna capire dove vogliono arrivare a parlare, perché loro giustiscono tutti di sei mesi in tre mesi, quindi avranno tutto ben chiaro per il prossimo overview. Però ecco, di far finire veramente questo dubbio. E se ce ne vediamo un attimo Adam Page in Coppia con Christian, così? Ma, ma... E io proprio lo tengo, scusami eh, lo guardo un po'. Ma andiamo avanti e parliamo di Trent, punto interrogativo, contro Penta Zero M. Questo lo metto dai top match della serata ragazzi. Non mi piace fare i podi di questo terzo, secondo e primo. Lo metto sicuramente sul podio, perché ha avuto tanto, ma allo stesso tempo non hanno fatto dire soltanto quanto sono bravi quei due. Ma anche quanto possa essere utile un manager che sta facendo davvero molto bene in Coppia con Penta. Ora, signori, pare un attimo che Penta si sia allontanato dal triangolo della morte. Però se tu senti il promo che lui fa prima della contesa, va a dire, best friends, avete fatto una cazzata a riaccendere la storyline, o meglio, la rivalità con noi del del triangolo? Sì, però pare un attimo che Penta sia un attimo staccato, però da una parte è pure giusto. Perché non si è fatto accompagnare da Pac e Ray Phoenix, mi dirai. Anche perché poi il nostro caro Alex, ma per chi segue Bindi Lit, sarà per sempre Benigno Bodega, gli altri due non se li incula proprio. Cioè lui va presto a presto a Penta e quello che ti dico che è un po' strano, è arrivato un po' a caso in mezzo a sti tre. Grazie a Cody. Però regà è bellissimo, cioè è proprio simpatico lui. E Coz ha anche questo essere simpatico con i tre del dettile angolo, perché loro non sono simpatici, non sono quelli che ti fanno la battuta. Io prima ti ho citato il promo pre-match, ma anche durante la contesa il buon Alex è stato decisivo. Sì, ma come cazzo sono uscito, cioè a un certo punto Penta era in difficoltà, prende il microfono, voleva fare qualcosa, non è presentato come wrestler, sarà un wrestler boh, e quindi prova, inizia a dire a Trento, Trento, ma tu devi sapere una cosa, cioè nel backstage, no, Penta ha detto che tu fai schifo, i tuoi amici fanno schifo, ma lo sai la cosa, pure tua mamma fa schifo. Tua mamma fa schifo, lì Trento. Temporeggia, perde tempo. Finisce anche sul ring, eh? Sì, Temporeggia, perde tempo. Trento si distrae da Pentagon e da lì arriva la risoluzione del match a favore di Penta. Sì, che va a connettere la sua package pad driver, però... Ma io ho sputato un pulmone, ho detto così all'improvviso. Sta venendo utilizzato fortunatamente bene, io spero ovviamente di vedere Alex con Penta davvero a lungo, perché mi stanno davvero piacendo, mi stanno davvero piacendo, vi dicevo che Alex era finito sul ring, dopo essere scappato dal Trento che aveva preso anche la sedia in mano, ecco, lì Alex stava per fare uno spot con Orange Cassidy che era le spalle, ma allo stesso tempo alle spalle di Cassidy eri appazzo, Penta con un super kick dietro alla nuca, violentissimo, violentissimo, e poi da lì, come ha detto Peo, hanno trovato modo per far finire la contesa con la package pad driver di Penta su Trento che era stato colpito proprio da Alex, con il microfono proprio prima, bellissimo, l'ambito si era distratta, visto Cassidy andà fuori la ringa, addio che è successo, Alex gli dà un colpo nel microfono, package pad driver, uno, due, tre, io l'ho trovato bellissimo. È stato un casino lineare, perché effettivamente è successo, scena uno, scena due, scena tre risoluzione, bello, cioè mi è piaciuto tantissimo, e poi ripeto, ho sputato un pulmone. Poi giustamente aveva fatto anche una grandissima contesa prima, io non sto qua a citare il pile driver sull'epron, oppure una delle solite grandissime Grand Destroyer di Penta, perché sennò qua stavamo a fare video di 200 minuti, però, oh ragazzi, è stato tutto quanto bello, non c'è stato soltanto la contesa, c'è stato anche altro attorno al ring, il coinvolgimento degli altri, Cassidy, Alex, bello, mi è piaciuto davvero tanto. Dito questo, passiamo a promo, però. Dai! Dai di Kid, ovviamente del Pinnacle, che si è fatto intervistare da Jim Ross, un'intervista che però ha visto soltanto due protagonisti, anche perché gli altri... Una sorpresa. Gli altri accompagnavano più che altro tutto quanto, e sì, una sorpresa, perché da MGF ti aspetti che sia protagonista assoluto nei promo. Infatti lo ha fatto, andando sempre a rimarcare un po' le solite cose, però come Gerico, te possono stare lì a dire, MGF e Gerico, te possono stare lì a dire sempre le stesse cose e tutti li guardi e sono belli. Infatti è andato a rimarcare tutte le cose che ha meglio di Gerico la sua carriera, che ha 25 anni, è meglio di quella di Gerico. Insomma, paragoni per azzerarlo ancora una volta, e poi passa la palla al Barzo a Warlo, e parla pure. Warlo che poco prima gli aveva passato un regalino da parte di Tulli, e questo regalino è la nuova la nuova Sharpe di MGF, che è comunque uguale a tutte le altre, che ha sentito il nostro grandissimo Tulli, perché il regalo è stato del Tulli, è bellissima questa cosa qui. Però, ecco, a me, trascendo il pezzo di Warlo, che sono stato felice di sentirlo parlare, ho detto, cazzo, questo parla pure, oltre a essere bravo, parla pure. Mi è anche convinto, perché lo faceva con parecchia scioltezza, a differenza un po' di Hager, che poco dopo mi sembrava un po' sconnesso da tutto il resto, però va bene così, vi faccio il paragone Warlo-Hager, che secondo me è il migliore quando si parla dei due stable. Ecco, però, MGF, secondo me, ha tirato fuori anche altro da repertorio, perché giustamente ha fatto il paragone dei suoi 25 anni contro quelli di Jericho, immarcando i suoi tempi di Natale o 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 di Natale, praticamente, se vuoi dire questo. Ma mi è piaciuto anche, però, come MGF abbia anche detto, giustamente, di essere migliore di Jericho, perché tra l'altro l'ha anche battuto. Cioè, robe magari ovvie, però... Ma in realtà sono sempre le stesse cose, perché da una verso o nell'altro, e ogni puntata le rimarca. Lui sa come girate le faccio. È quello che dicevo io prima. Le faccio un gran promo, perché si parlava di fare il promo immortale. Cioè, MGF è capace di farlo di puntare immortale. E quello, come Jericho, sono due che possono parlarti sempre tutte le puntate della stessa identica cosa, e cazzo tu stai lì e li ascolti, e ti diverti. E questa è una cosa che ce l'hai, o ce l'hai, o ce l'hai. Perché quando sei nel pinnacle tu sei sempre al top, questa, ragazzi, questa secondo me ci scriveranno libri su libri di storia, proprio, eccezionale, eccezionale. Mi è da ridere, però... Beh, non devi fare... Allora, qual è stato il match successivo, Peo? Sì, siamo già arrivati a Tainara contro Shida. Bassissimo in card, non me lo aspettavo, però cazzo... Però ha funzionato. Ha funzionato, abbiamo scoperto che è stato il match seguito della serata, soprattutto nella seconda parte, pare che gli spettatori si rimassero molto incantati da come stava venendo gestito la seconda parte del match. Devo dirvi la verità, a me è piaciuto inizio alla fine. Tainara contro Shida si è ritrovato ad essere davvero un capolavoro, secondo me. Se si pensa al personaggio che è Tainara, che non è che abbia chissà quale gimmick, non è che ha chissà quale bravura, marcata... Vi ricordo che lei è stata ingaggiata un anno fa ed era arrivata con l'idea. Ma perché l'ho letta questa? Questa che è NXT, manco prendeva spazio di visivo. Dopo un anno, questa è Tainara, dici cazzo? Allora l'hanno fatto bene, perché guarda che ti ha combinato. E te ci aveva fatto anche credito a una parte di poter battere Shida. Poi come al solito, lei per battere Shida c'aveva un calarmato. Io quando ho visto Tainara fare la finish, ho detto no, una non basta. La figura dice basta. Però è arrivata a due e mezzo, eh? Sì, è arrivata a due e mezzo. Insomma, è stato gestito bene. Quando io ho puntato il dito contro Banni e Tainara, perché non mi erano piaciute, qui mi devo ricredere, perché qui sono state brave. Quando metti qualcuno che non è proprio... Non dico che è scazzo, ma non è bravissimo Turing, e lo affianchi a qualcuno che è bravo, Shida è brava, in me ce lo fai. Cioè, acquisti quella mezza stella in più che non ci hanno avuto, secondo me, la scorsa settimana, la Banni e Tainara. Sei d'accordo? Qui sono state proprio brave. Sei d'accordo con me che, ok, hanno dato tutto e due tantissimo, ma la schiena di Tainara, come ne è scelto la stessa match? Perché a un certo punto Shida ha iniziato davvero a farle malissimo e Tainara, però, nonostante questo, si era lì che si rialzava e ci provava sempre a ribadire. Cert'è che poi, quando Shida trova le sue combinazioni, chiude i match sempre con manovre che mi fanno un po' rodere il culo per le sue avversarie o chi altro, che Shida non ha una vera finish. Averdivy ha fatto la Falcone Arroyo, gli ha portato soltanto a due netto, poi se ne inventa con quei calcetti, e qua e là, boom, a volte chiude i match e arriva a tre. Io non capisco qual è la vera finish di Shida. Non si sa, dipende dalla mossa che fa prima, se fa una taunt prima, allora è finisher, se non fa la taunt non fa più. Mentre Tainara sai che quella, c'è la TKO, bellissima, ma poi si è inventata anche altro addirittura, abbiamo visto Tainara andare dal paletto a lanciarsi con delle center clamorose, hanno lavorato anche fuori al ring, a me è piaciuto fortunatamente tanto questo match e faccio i complimenti a tutti e due, perché questa è un'altra di quelle contese, e fa benissimo, e tra l'altro molto vicino a quel Baker contro Shida, che sembra aver iniziato un nuovo percorso, perché da quel momento sembra quasi che stiamo per raggiungere a un altro passo di storia per la divisione femminile dell'All Elite, e il post-match, una volta che la buona Shida ha schienato Tainara Conti, è stato straordinario. Io li ho fatto un marco. È stato super semplice, perché è stato super semplice, ma di un impatto pauroso. esce la Baker, parla? No. Attacca? No. Punta il Tidatron, dove si distrugge il Power Ranking, e esce fuori la sua immagine con la nuova prima in classifica. E stop! Semplicissimo, la cosa più semplice del mondo, che non te l'aspetti da Britt Baker, perché lei parla sempre, ok? e invece sono rimasto così, oh beh, bravo. Segmento eccezionale, segmento eccezionale, che secondo me dà anche il giusto via al percorso che le vede da qui al Double Ornodding, ovviamente, parlando del percorso di Britt Baker e la campionessa Shida, per me inizia molto bene questa sera qua. Felicissimo che inizi, perché sono da... Felicissimo tanto che iniziano. Sono 4-5 mesi che la sto chiamando, sta roba. Però, cavolo, si è iniziato bene. Devo dire la verità. È poi super semplice, a volte le cose semplici colpiscono. Oh, io davvero, come se fossero andati i tempi delle Marche che esultava come un coglione di fronte allo schermo, l'ho rifatto, che è stato davvero di impatto proprio, nonostante sia stato semplice. È stato bello vedere il Power Ranking sgretolarsi ed eleggere proprio la Baker Number One Contender. E davvero l'ho trovato bello, bello, bello. Tutto questo perché Tainara Conti aveva perso. Eh sì. Aveva ottenuto quella sconfitta decisiva per toglierla da... Sì. Bellissimo, 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 bellissimo. Siamo avanti, stiamo avanti, stiamo avanti, che ci sta. Di chi vuoi parlare? Qua è pieno di roba. Miro, Miro. Miro che non so io, però. Miro che non so io. Manco i capelli, sono quelli di Miro. Vabbè, Miro ha fatto un po' quello che doveva fare. Beh, ha puntato i titoli. Ma bisogna capire però quale titolo lui abbia puntato. Ha detto chiunque ha un titolo sulla spalla è in eguai con Miro nei paraggi. Ah, Brian Cage, non vedo. Con Miro nei paraggi. Ha detto con Miro nei paraggi chiunque ha un titolo sulla spalla è in eguai. Ha citato Keny Omega, ha citato Herbie Allie, ha citato Sting. Perché Sting sta lì alle spalle, ovviamente. C'è anche Brian Cage. Perché Brian Cage non lo consideri? Perché quel titolo... Sì, ma è il titolo però, eh. Curioso il fatto come non abbia puntato i Bucks. Bucks, perché lui non vuole proprio fare un cammino di coppia con il buon Kip Sabian. Ce l'ha fatto capire in stesse settimane. Eh sì, ma poi Kip Sabian è quello che gli ha portato le sconfitte e la funglie. Eh, quindi questa cosa secondo me lui l'ha marcata dopo sulla sua pelle. Tra l'altro è un Miro che ok ha perso quel tag di match dell'ultima puntata nella penultima puntata di Dynamite però è uscito fortunatamente bene ed è per questo che sembrava davvero credibile. Lui potrebbe puntare a chiunque. Secondo me alla fine punterà a Derby Allie perché Omega lo vedo molto lontano. Poi chi lo sa. tutto possibile. Miro è matto. Beh, però perché no? Cioè nel senso vai a double nothing con Derby Allie magari se pia pure il titolo perché no? Cioè alla fine Derby Allie il cammino suo l'ha fatto ha dimostrato quello che Dora dimostrà o può pure perdere con Miro e dici magari non è al top in questo lì ma è comunque Miro un milione e due dei follower muove la massa sua e poi ha sempre i pareri positivi lui. Muove la massa sua di utenza e sul ring ti può piacere o non ti può piacere quelli su gusti perché no? Non fa nessun senso. Curioso di vedere quale titolo punterà io vi ricordo che il titolo di Brian Cage è inutile ce l'ha fatto capire anche il buon Miro detto questo c'è il promo di Kipeo dell'Inner Circle accompagnato però da Tony Schaone che subito andrà a chiedere a Chris Jericho un'opinione sul promo del Pinnacle Jericho ha detto ma chi se ne frega del Pinnacle noi siamo qui nell'Inner Circle e sul ring e là il pubblico ha reagito come se fosse un concerto tutti iniziarono a fare i cori per l'Inner Circle tutti che erano tutti felici li sentisse quasi a casa praticamente riempiti dei cori a me è piaciuto molto questo inizio qua del promo sì mi è piaciuto molto Jericho come si stava divertendo appunto a cercare le reazioni del pubblico si è proprio divertito lanciava frecciatine ma quello ormai è classico come Jeff dicono sempre le stesse cose ascolti però poi ha fatto un po' la canzoncina sì l'ha un po' perculata un po' più ripeto alla ricerca del pubblico perché con queste cose il pubblico lo ciappia ancora più e poi alla fine è andato a rimarcare insomma questo blocco che tutti vogliamo cioè giusto quello doveva fare dobbiamo ricordare il blocco hanno fatto anche dei promo il buon Hager con Santana però Santana che era decisamente più distaccato dagli altri più che altro di cattiveria che Santana sembra così che non veda che sia 5 maggio perché vuole andarci davvero pesante con i componenti del pinnacle poco dopo Gerico aver finito quella bellissima canzoncina diventa anche lui serio e va a promettere che il peggio deve ancora venire per il pinnacle che li distruggeranno padroneggeranno i loro sederi perché trovo così in italiano non rende tantissimo però è stato bello la chiusura del promo di Gerico che sembrano davvero pronti per tirarci fuori un grandissimo blocco in gazzo e tra l'altro settimana prossima ci sarà un confronto tra le stable non ancora blocco in gazzo però è giusto così perché è blocco in gazzo perché c'è deve essere rabbia e ce l'hanno messa in entrambi le parti molta più rabbia all'inner circle però è la parte tradita è giusto così e MGF continua a fare MGF poi chiunque c'ha dietro le spalle risulta bene anche se non parla o sei come Warlock dice due parole le dice bene uno sarebbe più contento assolutamente sì non sappiamo ancora nulla di questo blocco in gazzo tant'è che l'ha marcato anche Chris Perico però aggiudicate da quanto detto proprio dal champion settimana prossima potremo avere dei dettagli importanti e non vedo l'ora di ascoltarli sinceramente parlando detto questo mi piace tanto dire detto questo l'ho mai notato da 200 video passiamo al next step il preferito di Veronica me l'ha detto prima della puntata prima della puntata prima del video che prima della puntata dubbio che potreste sapere cosa sarebbe andato a cadere no sì era annunciato chiudi chiudi Marshall contro Billy Gunn è stato per il miglior match della serata io ho detto qui questo ma ancora lo faccio entrare nella top del podio questo non lo vuole fare in nessuna parte allora l'unica cosa che mi devo dire su questo è che almeno QT contro Billy Gunn mi stona meno a Dana ma rispetto a farmi vedere il segmento di Ogogo o di QT contro Cody che devono fare l'exhibition match mi ha stonato molto di meno però come al solito no ma no ma che ci frega della factory ma che ci frega dei QT ma poi quello che ci stanno promuovendo pure a Dark Elevation a Dark è poca roba cioè volete fare la factory contro il Gang Club mastica cioè io amo il Gang Club io li adoro tutti i partiti adoro Billy Gunn adoro Andy figurati ma però sarei contento di vederli lanciati cioè almeno però non li sono a lanciare almeno se lanci il Gang Club però dove deve andare il Gang Club cioè voglio dire Billy Gunn ma dove deve andare no io mi passi in gunna e mi sta più simpatico ah sì anzi c'è ancora il cammino suo però è troppo legato per ora il padre però si comporta pure bene no io io faccio un po' di eronia cioè non lo so nel senso faccio un po' di eronia sto match è stato presentato secondo me già male perché ci hanno fatto vedere Billy Gunn viaggi verso il quadrato con con una stricca abbastanza strana lui nel 2021 era imbattuto questa cosa fa molto ridere perché lui non ha fatto manco un single match a Dunham 7-0 non è bello il messaggio che lanci perché Billy Gunn ha comunque 57 anni ha ottenuto 7 match cosa vuoi farmi capire QT Marshall si trova a fronteggiare Billy Gunn e due fanno anche un match abbastanza lento inutile perché addirittura il buon QT deve ricorrere all'aiuto di Ogogo va bene ma questo match era costruito è stato costruito a Dark Elevation c'è stato il promo tra QT Marshall e Billy Gunn sì va bene ma è inutile è quello il fatto perché tanto come posso io pensare che QT Marshall possa andare a fare chissà quale contesa contro Cody se non riesce a battere il buon Billy Gunn in maniera pulita io non riesco a capire qual è il messaggio che vuole lanciare con questa storia e sinceramente vedere la non è una minaccia del Cody vedere una probabile una probabile factory contro Gang Club e batterli pure mi farebbe un sacco male perché ripeto a me stanno simpatici fanno quello che devono fare a Dark a Dark Elevation che cazzo c'entra che più costa factory ti dirò pure una volta che QT ha schienato il buon Billy Gunn grazie a tutti quando ho fatto un post match che mi stava piacendo nel senso arriva Dusty Rhodes voglio essere vendetta tutto quanto di qua da là a un certo punto Dustin prende una sedia di legno e la batte sulla testa di Nick Comorodo allora io queste cose le odio perché ti dico la verità il fatto che Nick Comorodo non abbia venduto per niente una sedia che ti si rompe sulla testa a me non è piaciuto per niente poi hanno preso pure di legno che mi vuoi far capire adesso che Nick Comorodo è diventato è Hulk che cazzo ne so Mark Herring unito con Greg Alina cosa assurda incredibile non mi piace non mi piace è un po' troppo la factory è troppo per Dynamite starebbe giusto a Dark a Dark Elevation farebbe il suo farebbe vedere i nuovi talenti su cui puntano ma a Dark no scusatemi a Dynamite no cioè troppo spazio inutile io davvero fatico a capirla sta roba fatico davvero a capirla mi spiace che Comorodo comunque mi stava anche piacendo da face mi stava piacendo ma comunque un conto è come mi presenti Jungle Boy Derby Alli è ok un conto è come mi presenti questi che poi sono pure proprio c'hanno poca esperienza non so l'altezza di Derby Alli e di Jungle Boy assolutamente no assolutamente no però tu questo l'hai messo in top io devo mettere un flop mondiale detto questa parte di scherzi andiamo avanti e parliamo di la Super Elite ma si stavo a leggere la Super Elite finalmente che addirittura ha un suo nuovo spazio un nuovo container tutto per loro c'hanno il container tutto per loro tra l'altro è un sacco carino targato il Elite fuori si targato il Elite fuori un sacco di roba ma io più che so affermarmi su quello che ha detto Nick Don Callis Matt Omega quello che stavano tentando di dire che effettivamente hanno detto poco e niente mi verberei sul duo delle meraviglie bellissimi sul duo delle meraviglie che mentre parlavo me iniziano a disturbare da fuori il container i ragazzi della Super Elite pepe pepe vai a vedere chi è chi non è chi vuoi che è è Moxley con Eddie Kingston che non si fanno troppi problemi a investire in pieno questo super nuovo ormai da buttare container della Super Elite con un mega sub e non contenti di avergli fatto un bozzo così vanno pure dentro a cercare la Super Elite che è sparita spaccando un po' i finestrini il fatto pure è che qualcuno può dire ma quelli erano 5 quelli erano 2 si ma c'è i Moxley i Moxley non hanno mai fatto problemi a andare a bordo uno contro con delle mazze addosso con le mazze di Kinks ma lì potevano essere pure 150 Moxley andava lo stesso e Eddie Kingston non lo segue giustamente Eddie Kingston è stato deficiente e lo segue sono due che non si fanno problemi quindi è giusto bello ma è piaciuto ma poi il segmento si chiude con Moxley che dice che sono del B.C.F che bellissimo E.F lui c'è B.C.E.F però insomma era quello il significato sono davvero eccezionale eccezionale la traduzione in italiano mi fa pensare è vero che si sono comportati in quel modo i buon i buon super eletto ormai possiamo definirli così ecco una cosa che ho voluto marcare però è che Eddie Kingston e Moxley sono ufficialmente il tag team perché sono nascite anche le loro maglie e ciò mi porta a dire che se riusciranno a vincere qualche altra contesa ne hanno già vinta ne pare due insieme Eddie Kingston e Moxley eh non mi ricordo e ne hanno persa una se non mi sbaglio comunque ecco se riuscirono a ottenere una serie di vittorie per me a Double or Nothing ci sarà Young Bucks contro Eddie Kingston e Joe Moxley perché no? quello che vi dico io mi fa male perché no? perché no? e questo è un desiderio di Moxley cioè che dovevamo prendere l'intervista di qualche mese quando lui era ancora campione lui voleva entrare nella team division e portare qualche interesse anche lì grazie a lui e lo sta facendo poi ha trovato anche un matto scatenato come Eddie Kingston che so carico dico di Eddie Kingston magari non è bravissimo sul ring come lo sono Omega e tutti questi qua compensa però lui compensa con i promo è uno dei migliori al mondo non è che l'ha detto sia in punk che tranquillità stava in macchina mentre Moxley puntava il container proprio tranquillo vai si spondiamo noi lo dicevamo anche i tempi della storia proprio con lo stesso Moxley che tirava fuori i promo davvero belli che lui ci metteva proprio il cuore e il manco si dispensa lui gli diceva così con il polso lì tutto de polso faceva e quindi secondo me questo va premiato chissà se lo premieranno facendo di vincere addirittura di coppia bisogna vedere se ci sarà sto match che mi è venuto in capoccia detto questo come al solito andiamo avanti e per questa volta dico io e parliamo di Christian Cage contro Will Ops contesa intelligente si però allo stesso tempo vestita bene ma non bellissima allo stesso tempo brava sono d'accordo con te bene ma non benissimo perché questo match sarebbe dovuto servire più che altro per marcare al meglio il personaggio di Will Ops che è un big man e il che rompe parecchi coglioni sfruttando tutta la sua potenza ma anche il suo essere sleale l'ha fatto benissimo Christian Cage che si è fatto trovare pronto per prendersi tutte quelle botte da Will Ops Christian addirittura è stato costretto a un certo punto a tirar fuori tutti i trucchetti per cercare di mettere a terra Will Ops e a me è piaciuto molto sta addirittura qua perché Christian non sapeva più come replicare la potenza di Ops quindi usava tutta la sua esperienza a un certo punto per cercare di rendere in mano al match ma Ops come al solito riusciva a rimetterlo normalmente a terra cioè il match è stato molto macchinoso però allo stesso tempo era quasi doveroso essere prontato così visto com'è Will Ops Christian Cage lo stanno riportando piano piano lo stanno anche testando quando gli prendono un sacco di stamp di botte oltre che panno botte lo stanno testando in più su questo Will Ops c'è punti perché c'è punti a me non piace ma c'è punti c'è punti e fai vedere che insomma è una macchina da guerra sì perché no cioè nel senso se c'è punti se vuoi far passare questo va bene poi è un po' assurdo che abbia preso così tanto il botto Christian Cage da Ops è un po' assurdo però non abituali in All It va bene cioè nel senso lo hanno fatto tanti perché non lo fa fa pure lui che tra l'altro è tornato piano piano ha detto voglio dimostrare voglio fare Christian forse lo fa con più cervello perché sa quello che deve essere fatto per fare risultare al meglio chi ha di fronte visto anche l'esperienza che c'è l'ha fatto benissimo è stato bello vedere a un certo punto Christian sgattagli la ricetta le spalle di Will Ops e connetta una kill switch all an hour però non è convinta che sia stata all an hour per me è stata una kill switch all an hour perché l'esecuzione mi dirà che la kill switch è complicata però per me è stata all an hour a quel punto c'è stata Taz che si assaltava di commento e invita Christian a stare in alletta perché giustamente il figlio di Taz deve attaccarlo alle spalle è stato quindi l'assalto un altro assalto da parte del Taz se sono divertiti tantissimo sta puntata a fare gli assalti e che succede e mi sa che ho un po' in memoria in questo momento perché il fatto il fatto è questo Team Taz all'inizio l'abbiamo visto fare l'assalto poi c'è stato anche il fatto di Taz che ha dovuto fare l'assalto è ovunque Team Taz altro che Brian io mi chiedo dove vogliamo arrivare a parlare con tutti gli assalti dove vogliamo arrivare a parlare con Team Taz che io penso che la stable di Team Taz e la stable di Madardi viva un momento complicato perché loro alla fine fanno vedere ma poi si sciolgono si ma sai cosa vogliono dare spazio se in ogni segmento tu ci butti due di Madardi due del Team Taz due qui due lì comunque se ne parla tu stai qui a parlare del Team Taz stai qui a parlare del team di Madardi però mi lascia stai un po' ovunque qua parliamo parliamo piuttosto del Team Taz vediamo un po' che combineranno settimana prossima spero che non facciano qualcosa uniti insieme a stable di Madardi perché se no fanno i match a dieci così dieci non ci bastano non ci bastano ma con dieci parliamo del Menevent e qua ragazzi vi posso fare soltanto i complimenti a Jungle Boy e Darby Allen che era chiamato a difendere il suo titolo TNT dall'assalto del componente di Jurassic Express e devo dirvi la verità a me sto match è piaciuto fortunatamente tanto a me è stato il miglior match di Dynamite di questa settimana non me ne vogliono le donne che secondo me hanno fatto comunque benissimo però qua ho visto un qualcosa di epocale perché se io continuo a dire da un anno da inizio 2020 che mi ritrovo di questa frase del B&L e del Jungle Boy hanno tutto per essere presente il futuro del Pro Wrestling e in questa puntata un anno dopo l'hanno confermato nuovamente mattoncino 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 li costruisci gli dai credibilità li fai fare un menemento del genere tu te li guardi e sei contento poi allora parliamo del match poi parliamo anche di quelli manager che hanno fatto anche loro qualcosa utile per la contesa è stato davvero spettacolare perché hanno unito un sacco di mosse tecniche a un sacco di voli come al solito tutto caratterizzando i loro personaggi perché Derby Allin è stato folle a un certo punto si è lanciato tre volte a fare un suicide dive a Jungle Boy per metterlo a terra poi mi viene da pensare Derby Allin durante il match e vede Jungle Boy steso lì sull'Ebron che fa poi facciamo il coffee drop rischiava di spaccarci la schiena e perdere anche il titolo però gli è andata bene perché è stato lì di solo bravo Jungle Boy a cadere di fuori e non andare verso il ring quindi si è un po' parato il culo in quel momento però ecco è stato bello anche vedere come Jungle Boy avesse la sua di offensiva che poi lo ha portato soprattutto quando se ne sono andati via di End of the Sting e Lucius Auros ad accelerare il manovere ad un certo punto iniziano a fare Brain Buster e Ball Drop gli ha fatto la mossa di sottomissione che adesso non mi ha soffermato sì sì gli ha fatto anche la sottomissione da qui è uscito la Snartrop ti ricordi cosa gli fece fare la Snartrop gli fece scedere Dax sì no ci aveva chiuso un bel po' di match è uno che ne finisce secondo me che lui stesso si è vantato di avere un sacco di manovere tecniche che portano anche a sotto e cazzo no Darby Allin è uscito io quando ho visto che la connesso ho detto ma davvero gli hanno il titolo invece Darby Allin è uscito Darby Allin era molto provato aveva fatto tutto quello che ho detto prima però con la Snartrop lì mi ha dato la sensazione che potesse essere decisiva anche con Darby Allin ok poi abbiamo visto magari un finale un po' troppo ma serviva per preservare Jungle Boy che secondo me è un altro di quelli che ci puntano davvero tanto prima parlavamo di We Rops che secondo me ci puntano a prescindere dal finale contro Beast and Cage qua secondo me su Jungle Boy ci puntano ancora di più beh hanno più anni di lavoro più mesi di lavoro dietro le spalle di Allin Jungle Boy rispetto a We Rops quindi We Rops aspetta quante botta ha preso Allin prima di quante botta ha preso Jungle Boy però signori io vorrei un sacco sottolineare quello che ha fatto Luciusaurus e Sting che a me mi sono piaciuti un sacco ha fatto una cosa semplicissima con Sting che continua a mantenere fede alle sue parole lui dice io sto lì per Allin per lasciarlo fare io mi devo accertare che i suoi match sono single match punto ma non lo vado a aiutare non lo aiuta questo è anche un po' troppo esagerato Sting secondo me perché il motivo che poi lo ha mandato a scontro con Luciusaurus è stato che Luciusaurus lo ha effettivamente ha effettivamente rimesso sul ring ha aiutato Jungle Boy a rientrare sul ring lo ha un po' tenuto ma niente di che un sostegno morale molto presente però insomma non è che aveva fatto Jungle Boy stava per tendere il match per Contout ha visto Luciusaurus a mod di albero si è aggrappato a lui e poi rilanciarsi all'interno del ring si ho capito ma non è così eclatante non è che è andato così tanto contro Alderby Allin le parole di Sting è quello cioè non è un single match se non ci fosse sta Luciusaurus come sarebbe terminato il match non era un single match perché comunque tu hai ricevuto un aiuto quindi si incazza con Luciusaurus e finiscono fuori nel backstage cioè per la stupidaggine a me ha dato un'emozione incredibile perché ha mantenuto fede guarda Sting come reagisce solo per questo solo perché quello si è un attimo tirato su perché neanche l'ha preso Luciusaurus e l'ha messo su un attimo la sorretto ma poi ha fatto tutto da solo capito solo per quello Sting si è messo in modo e io ho detto cavolo però che bello addirittura tutto questo però stava andando a favore di Jungle Boy come dicevo prima mi ha connesso Brain Buster e Ball Drop e ha fatto anche a mosse sotto missione d'Allin e lì poi ti è scaturito un finale davvero molto è che ti ha lasciato così perché Allin si mette a quella culla che solo lui ho visto fare da quando vediamo Dynamite 1-2-3 però diciamo che pure lì il match ha avuto quel momento di accelerazione importante anche per quello che era successo prima che sembrava potesse andare a favore di Allin invece è andato a favore di Jungle Boy che però non è riuscito a cogliare però non posso di niente perché mi è piaciuto anche come hanno gestito il finale l'hanno protetto da Jungle Boy hanno protetto anche secondo me Allin che con certi avversari deve ricorrere a questo dimostrando di essere non solo folle ma anche intelligente quindi va benissimo bello post match che non ti aspetti con Darby Allin e Giacomo che si trovano uno di fronte in ginocchio si guardano quasi volessero stringersi una mano per la contesa appena svolta ma boom arriva Scorpio Sky con Adam Page ad attaccare tutti e due ma soprattutto poi Adam Page se la prende con il polo Darby Allin immagino fa anche un lancio lamoroso non so se tu lo sai Adam Page e Darby Allin hanno una storyline vecchissima in Evolve davvero brutale e infatti si è ripreso su questo sui social quello che accade nell'avivoto con i due che erano in rivalità e pare che la vogliono riportare anche qua anche se tutto secondo me si basa anche su quello che stanno dicendo proprio Sky e Adam Page durante Dark Elevation che voi non sono insegnate a tutti i costi ora se posso orcire il naso su questo perché dopo che ti sei visto sta contesa ti sedugio vincelli e insomma ti stava a piacere c'era quasi la stretta di mano e se chiudeva così Danone e te vedi ruba la scena da Scorpio Sky tanto rispetto poi io lo ripaglio negli assi usi dove fa ste cose e Adam Page un po' la senti quel crack nel cuore non poi ci rimane male però poi questo ha portato a un'altra cosa che a me ha sciolto il cuore però io avrei riferito molto di più di Allen e Giangolo e te capisco perché come ho detto prima che sarebbe stato giusto cioè la chiudevano loro la puntata loro hanno le chiavi per essere il presente e il futuro del mondo del pro wrestling ovviamente paragonati anche alla loro ta io mi riferisco tutto a questo sono giovanissimi quindi ci sta mi sarebbe piaciuto vedere gli stringi la mano che si chiudeva così Allen non l'ha potuto fare come Tardi perché Matardi è stronzo e giustamente non lo poteva fare come Tardi dopo quel match però ecco mi sarebbe piaciuto vedere gli stringi la mano e farla finì là invece random con due background uno diverso dall'altro Scorpio Sky ex S.E.U. anche come Macari 2 veniva da Unturn dove lui vuole assolutamente scrivere la storia in singolo però alla fine accetta sta alleanza di un peggio a me sinceramente non mi piace nonostante tu adesso andai a descrivere cosa ha fatto il buon Archer eh sì perché arriva Lance Archer per rubare la solita scena però però va in difficoltà e arriva al battle sì ragazzi e io me so sciolta io me so sciolta perché è così bello il rapporto che hanno questa storyline che ha Archer con Sting colui che si vuole prendere il tempo infatti quando può va va a rubarsi a chiudersi un altro main event va in difficoltà e Sting invece di lasciarlo lì magari fare anche la figuraccia va ad aiutarlo va ad aiutarlo e a me piace tantissimo non è che io storgo il naso e che non mi piaccia è che ragazzi sarà tiro del culo per Allen e Jungle Boy ma pure per anche il fatto che sta sempre troppo erissere certi attacchi che non capisco nel profondo molti attacchi ultimamente e questo non me fa impazzire sinceramente parlando penso un po' dopo aver visto quel match lì quindi fatica a dire che è stato uno dei miei eventi più belli perché poi purtroppo comprende anche il finale che per me ha abbassato un po' però il match resta quello il match è tanta roba sarebbe stato bello se si stringevano la mano hanno puntato su quest'alto tanti possono starci il naso c'hanno ragione perché vediamo se arriverà un tag di match un tag di match Archer Sting contro quei due io mi sento male cioè alla fine Sting che effettivamente ha detto ad Archer di meditarsi il tempo invece di andarci contro lo aiuta a prendere tempo quindi lo aiuta e magari gli dà dei match gli fa fare un tag di match la faccia del Jake Ness di Geroberts ma vediamo è tutto così magico mi piace tantissimo vediamo come si volerà tutto quanto settimana prossima se volerà bene perché si avvicinano sempre di più al Double or Notting ci avviciniamo sempre di più e ancora non abbiamo nessun match ufficiale e questo è importante secondo me fateci sapere la vostra qui sotto nei commenti come al sole lo spolliciate commentate condividete iscrivetevi ai canali qui sotto in descrizione trovate i link a tutti i canali di Peonia e quindi proprio da lei Peonia di Elite Queen of the Universe e da Miro è tutto Too Sweet forza Derby Allin e forza Jungle Boy